Ricetta. Cucinare grissini. Reading and PCS. Eccoci alla nuova lezione del nostro corso di cucina. Impareremo a cucinare grissini. Ingredienti. Quattro tazze di farina, mezzo cucchiaino di sale, un cucchiaino di malto, due cucchiaini di lievito, una tazza di acqua, due cucchiaini di frumento, cinque cucchiai di olio. Ricetta. Metti dell'acqua fresca in una piccola ciotola. Aggiungi lievito fresco, aggiungi malto d'orzo, mescola tutto in una ciotola, con le mani o con un mestolo. Aggiungi del sale nell'acqua. Sbatti bene l'impasto. Aggiungi nella ciotola l'acqua salata. Aggiungi olio di oliva. Mescola per dieci minuti. L'impasto diventerà elastico e liscio. Modella l'impasto in una sfera. Spolvera la carta da forno con del grano duro. Schiaccia un po' la sfera d'impasto. Ungi leggermente con olio. Spolvera con poca farina. Lascia lievitare un'ora finché raddoppia il volume. Taglia in strisce di pasta. Allarghi circa mezzo ditto. Stira per circa tre spanne. Le puoi rompere con le mani. Riempi la teglia da forno. Ungi ancora con olio. Cuoci per venti minuti in forno caldo a circa duecento gradi. Finalmente mangia i tuoi gressini. Metti like al video e iscriviti al canale. Grazie alla prossima lezione.